Questa volta ho preso la decisione più folle della mia vita Per scoprire che cosa ho combinato e per essere con me in questo viaggio Guarda il video fino alla fine e non dimenticarti di iscriverti al canale Buon viaggio Sono Alberto e vivo in provincia di Milano Una giungla tra traffico, smog e stress cittadino All'alba dei 40 anni però voglio prendermi un attimo di pausa Ed andare in un posto più tranquillo Per esempio Zanzibar ed entrare a far parte di una tribù Masai Ma per farlo dovrò infiltrarmi tra di loro e scoprire i loro usi e costumi Ah dimenticavo, gli porterò anche la maglietta dei Day Show Mettiamo anche questa Tutto pronto, si parte all'alba Signor ufficiale, siamo in aereo, stiamo andando a Zanzibar Bene, siamo atterrati Bene, andiamo a cercare i Masai Il clima è ovviamente più caldo di Milano Ed una volta arrivato inizia subito a chiedere informazioni Io voglio diventare un Masai Ehm, devi nascere Dai, ma dai, fammi diventare tu un Masai Vuoi diventare un Masai? Sì Allora devi venire chi li mangiano Sì Ogni mattina alle 6 e mezza Beviamo il sangue con le radici E viviamo nella savana Ma tu le usi le mutande? No Quindi neanch'io devo usare le mutande Solo il Pareo E poi dopo ti fanno la... come si chiama... quando ti fanno su un anipisello a... Sul pisello? Sì, possessione La prima cosa ti do medicina Sì? Per essere magro Quindi divento Masai Diventi Masai Medicina che leva la pancia per essere magro Ma poi mi viene anche... Fa cagotto per una settimana Alla fine, dopo una lunga ricerca Trovo Leo Il capo Masai Ascolta, ma io... Anch'io voglio essere un Masai Eh... La settimana prossima diventerai Masai Se puoi essere la tribù Masai Perché nasce Masai Ma tu sei già nato italiano Porca Troia Perfetto Parte la cerimonia di iniziazione E divento ufficialmente Gatto Masai Finalmente sono riuscito a diventare un Masai Sono Gatto Masai Da Cassina dei Pecchi Però ora che sono un Masai Non posso vivere solo di musica e feste Devo anche trovarmi un lavoro E quindi prendo spunto da altri colleghi Che propongono ai turisti Escursioni e prodotti tipici locali Vuoi fare escursione? No, Laura Escursione per uscito a chiudo? Sono uscito a chiudo Escursione per uscito a chiudo? Sono un Gatto Masai Hai un Gatto Masai Hai un Gatto Masai Non lo so Sì 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 Hai un Gatto Masai Papaya, papaya Dai, dai Papaya, papaya Sole, sole, papaya Masai No, non, non , non Vabbè, non è andata proprio così bene con il lavoro, però, come promesso, la maglietta dei The Show la devo consegnare. Vi porto la maglietta dei The Show. Ok, d'accordo, va bene. Poi la vendi? No, glielo metto. A chi lo metti? No, glielo vendo, glielo vendo. Hai detto glielo metto? No, pensavo una donna da vestire. Insomma, c'è un po' di confusione con l'italiano. Comunque, vuol evitare equivoci, è meglio che tiri fuori la maglietta. E? Anche tu sei un Masai The Show. Masai The Show. Tu sei Masai The Show. Sì. E tu? Sì. Bene, missione compiuta. Ma ora è il momento di tornare a casa. Mi mancherà questa gente, con il loro calore e la loro simpatia. La figata, la figata. Però alla fine, tornare a Milano non è poi così male. Dai, muovetevi, mamma mia. Se il video ti è piaciuto, lascia qui sotto un like, iscriviti al canale e seguimi su Instagram. E commenta anche con Masai.